Ciao a tutti ragazzi eccoci con un nuovo video su questo ma che cazzo Ciao a tutti ragazzi eccoci con un nuovo video del canale e oggi cosa faremo oggi? Ciao a tutti ragazzi eccoci con un nuovo video del canale e oggi cosa vi proporrò oggi mi cementerò in una challenge e per fare questo challenge avrò bisogno di un'altra persona chi sarà questa persona? quindi per fare questo video ho deciso di chiamare una persona che adesso apparirà magicamente qui affianco a me entra Anthony ecco Anthony ragazzi questo è un gran coglione è un grandissimo è una persona che farà questa challenge con me premetto che questa challenge l'ho vista dal canale l'ho presa dal canale di Richard F.F.R.O.G che fanno cose quindi ho cercato di trovare qualcosa in realtà il disegno e premetto che lui non sa disegnare, non sa fare assolutamente nulla a che fare con il disegno e quindi e quindi cosa andremo a fare oggi? oggi andremo a fare i nostri ritratti disegnando con la bocca wow ok premettiamo anche che non abbiamo ancora provato a disegnare con la bocca e penso che sarà abbastanza difficile questi saranno i fogli che useremo e te li fate vedere questi saranno i fogli che useremo dei fogli normalissimi facciamo vedere che non c'è niente disegnato e quindi avremo del tempo a disposizione non troppo però quando abbiamo finito è finito non abbiamo un tempo prefissato e che farà il ritratto più somigliante vincerà vincerà chi invece perderà farà una penitenza no? come tutte le cose farà una penitenza questa penitenza visto che non siamo riusciti a sceglierla abbiamo deciso che la abbiamo deciso che la abbiamo deciso che la sceglierete voi la sceglierete voi la sceglierete voi no si no si no ok quindi una volta finito questo video sui commenti dove vi pare sulla pagina facebook che vi metterò sempre il link in descrizione qui sotto scriverete delle penitenze non siete troppo cattive perché se no io non le farò tanto perderà la vita quindi ci sarà questa penitenza che farà vedere nel prossimo video che farà vedere nel prossimo video ora chi parte per ti te per ti te allora mettiti bene il mio video io sarò qui ok no no allora eeeh aspetta allora adesso Anthony inizierà a disegnare me però non sarà così facile sia perché devi disegnare con la bocca sia perché io non starò fermo cioè io vi intratterrò nel frattempo quindi mandiamo al via se no il video durerà troppo vai Anthony quando è finito smetti e poi ti puoi vedere vai 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 mi sembra cose più grosse vai Nel frattempo che ti racconto un po' della mia vita Fra quattro giorni noi partiremo per un posto molto lontano Andremo ad Ios in Grecia E io mi sto piegando addosso Lui verrà con me e altre persone Saluterò queste persone Ciao persone Ognuno da lì mi sta parlando E quindi Ciao Daniele Un applauso a Anthony Vai continua vai 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 Dai che scherzo Io non metterò in bocca con la pinna sappiatelo Io ne ho già presa un'altra Ciao mamma Ciao mamma E beh Ora io non sto vedendo quello che sto facendo Quindi ho paura che potrei farlo meglio di me E io dovrò fare la penitenza Ma io sono partito da quell'idea che non farò la penitenza Ma tutto è possibile Perché altro non abbiamo ancora capito chi deciderà Qual è il migliore Io Eh questo no Dicideranno proprio tanto Dicidete anche la penitenza Ok Quindi alla fine metteremo anche le foto del disegno E voi sia su Facebook Con i commenti Con i mi piace Con quello che vi pare Sia su Youtube Ci direte qual è il migliore E poi ci prendi la bocca Ci prendi la bocca Anthony ha finito il suo ritratto Adesso vi faremo vedere come le make up artist Che schifo Che schifo A me fa schifo La pavata Se vi farò vedere come le make up artist Vedete questo disegno Aspetta Speriamo che mi si dita a poco Eh a poco Ecco il mio ritratto Però come ti metti nel mezzo Dai ci assomiglio no Poi c'ho il naso di profilo E la faccia dritta Ho il naso di profilo E la faccia dritta Quindi si 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 sono io Io ti sogno così normalmente Eh lo so Anthony che ti sogno così normalmente Quindi ok Adesso è il mio turno ragazzi Allora Mi raccomando Prima di fare queste cose Ingogliate la saliva Perché sennò non c'è tanto Anche se non pensi che vai a casa Non bisogna Allora vai Ma Non so Cosa dire No no Eeeh Com'è che stai facendo No raga io bello E' partito Ma non mi stai guardando Ecco 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 Ma cosa sto cavolo Ma cosa sto cavolo Sto disegnando delle foglie Mi ha cogliato Mi ha cogliato un inchiostro No sto a cogliere proprio la penna Ma Intrattere Dai io bello con la promozione Tutto a te Ragazzi forse vinceremo Come era Perché ero schifo Vai racconta Raccontati quella volta in cui Adesso Adesso mentre io faccio Questo ritratto Io farò un ritratto Con la penna E vedrete che non cambierà nulla Da che me l'ha fatto con la bocca Sì Sì sto facendo una cosa Sto facendo un video Bene è una Un'altra 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 Eh? No Ci sono Oh Ok ragazzi è finito Allora siete pronti a vedere, penso che dopo questo disegno vi disiscriverete dal canale, non sono i miei quelli Dopo questo disegno vi disiscriverete dal canale E sto facendo malissimo la bocca ragazzi non fatelo a casa, è pericoloso Allora, vieni Anthony Il sorpo del normale Ok, dai un pochetto ci assomiglia Dai Ok tanto poi lo vedrete bene però la foto la metto sulla pagina Però dai no pensavo peggio Cioè è difficilissimo, mi sto facendo malissimo la bocca Quindi Dopo questa emozionante challenge 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 Scrivete sui commenti come si dice challenge challenge Che ogni video ho una parola che non so come dire Quindi Noi ci siamo cimentati in questa challenge 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 Questo challenge E spero che vi sia piaciuta Quindi Ricordatevi No Quindi Quindi Ricordatevi di commentare Ovunque Ovunque Su qualsiasi link Io vi posto Condividere Mettere che vi piace Iscrivervi per sapere quale sarà la benedienza Chi la farà Ed essere cattivi nella benedizione Esatto Cioè se non vi iscrivete non sapete che vi Fatemi inizia Il prossimo video Ok Quindi iscrivetemi Ma che sei cattivo Sei sempre cattivo Ma di che sei da risultato Cattivo Scrivetemi Spero che vi siete piaciuti Che vi siete piaciuti Che vi siete stati belli Mentre vedete il video Quindi vi lascio sempre tutti i link in descrizione E andate a vedere anche gli altri video precedenti Il vlog Quello è l'8 Dei miei 18 anni Ehm Perché è l'8 Penso che questo sarà l'ultimo video di giugno Perché fra 4 giorni parto Cercherò di fare un altro video Quando torno Eh sembra l'81 Ehm Chi ora? Quando torno a luglio Tornò? Ehm Magari sarà sia la benedienza sia un'altra challenge Challenge Dopo l'estavolo della vacanza con lui e gli altri Se torneremo Perché infatti salutatemi ragazzi Perché potrebbe anche essere che non tornerò mai più Ehm Basta Basta Finiamo questo video Basta Come va la vita? Ehm Ciao a tutti Ci vediamo al prossimo video Saluto ad Anthony Che spero che non vedrete mai più Prima Ci sarà sicuramente altra gente Che dopo questo Perché? Ciao Sara Ehm Dopo questo video Penso che i miei amici faranno a gara Per fare i video con me Ciao